Pan d'oro fatto in casa. Oggi vi spiego la ricetta passo passo, questa è una versione al pistacchio. Mettetevi comodi, prendete appunti, vi scriverò tutti gli ingredienti nei commenti. Iniziamo dal purish mescolando in un contenitore ermetico farina, acqua e lievito e facciamo riposare 12 ore in frigo e poi a temperatura ambiente. Il mattino seguente ci andiamo a preparare il secondo preimpasto, mescolando sempre con una forchetta acqua, lievito, miele, tuorlo e farina. Copriamo e facciamo lievitare a temperatura ambiente per un'ora, un'ora e mezza. A questo punto possiamo unire i nostri due preimpasti. Prendiamo le fruste elettriche a spirale o la planetaria, aggiungiamo la farina e facciamo incordare l'impasto. Uovo, zucchero facciamo incordare fino ad ottenere un impasto liscio e non appiccicoso. Così potremo aggiungere il burro morbido pochi pezzi per volta, fino ad ottenere un impasto quasi filamentoso che andremo a coprire e a fare lievitare per altre due ore, due ore e mezza. Nel frattempo ci prepariamo l'emulsione con cioccolato bianco tritato, scorza degli agrumi, bacca di vaniglia, panna fresca e burro. Facciamo sciogliere dolcemente a bagnomaria, poi mettiamo in frigo a riposare fino al momento dell'utilizzo. Trascorse le due ore riprendiamo il nostro impasto, facciamo incordare, uniamo farina e panna, facciamo incordare. Adesso è il momento dei tuorli, pochi per volta. Primo tuorlo facciamo incordare, secondo tuorlo e zucchero facciamo incordare, terzo tuorlo e zucchero facciamo incordare. Ci vorranno diversi minuti ma non vi preoccupate. Adesso aggiungiamo il sale, lo facciamo assorbire bene, ultima parte di farina, facciamo incordare, riprendiamo la nostra emulsione dal frigo e la uniamo un cucchiaio per volta e facciamo incordare. Adesso finalmente possiamo completare con il burro morbido, pochi pezzi per volta. Dobbiamo chiudere il nostro impasto a una temperatura di 24-25 gradi massimo. Facciamo riposare per 15-20 minuti in frigo, prova del velo, qualche piega, pirliamo e mettiamo in uno stampo ben imburrato con la chiusura rivolta verso l'alto. Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente, tutta la notte in frigo, il giorno seguente forno spento con luce accesa e cuociamo a 180 gradi per 10 minuti e a 160 gradi per altri 25-30 minuti. Per la crema al pistacchio mescoliamo panna calda, cioccolato bianco e crema al pistacchio ed eccolo pronto.